Partiamo subito con una ragazza che viene da Messina, Teresa Mandalari. Vieni Teresa. Bene arrivata. Non guardarli intimorita, fanno così ma poi sono buoni tutti e due. Visto come vi ha guardato un attimo? Io di più, però va bene. Che ci farà ascoltare una canzone di Alexia. Tu sai quale? Mi sai dire come fa l'alpezzo? Ma sai anche che cosa ama? No, non ama nulla. Ama tu tante cose ma non ama nulla. Codice 01. Teresa Mandalari, dimmi come, Alexia. Come fai a tornare qui senza bussare? Dimmi come fai, per niente è facile, vivere così, ti dovrei odiare, ma come potrei? Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. Tu non sai cos'è rispetto se non senti il dolore. Sei tu, chiami quando vuoi, dici venga e non lo fai di un po', non si fa così. E' un pezzo che aspetto qui, ah, non mi controllo più, mi incanti e mi butti giù. E adesso corri, c'è qualcosa che ho da dire. Vuoi forse metterti nei guai? Io non riderei. Dimmi, dimmi, dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. E no, dimmi, dimmi, dimmi amore. Tu non sai cos'è rispetto se non senti il dolore. Dimmi che, dimmi se, sei tu. Tu vieni quando vuoi, nel mio letto e poi contatto, bello e sale su. Mi incanti e mi butti giù. No, io non ti voglio qui, ma non posso perderti. E non mi chiederei di smettere di urlare. Ti ammazzerei, ma poi non so, quando ci sei? Senza di te non c'è più il sole. Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. Come on, come on, come on, baby. Tu non sai cos'è rispetto se non senti il dolore. Dimmi, 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 dimmi che cosa ne vuoi fare. Dite come posso fare per salvare il mio cuore. Ma non mi vedi cos'altro puoi desiderare. Tu non sai cos'è rispetto se non senti il dolore. Dimmi, 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 dimmi che cosa ne vuoi fare. Dimmi come posso fare per salvare il mio cuore. Grazie. 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 Modice 0-1. Complimenti, complimenti.